Oggi in giunta è stato approvato un accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Puglia per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria. È un accordo molto importante, la Regione si impegna ad adottare misure su vari campi, in vari settori, dalla comunicazione alla sensibilizzazione dei cittadini, alla introduzione di nuove tecnologie, anche per quanto riguarda i trasporti, proprio con la finalità del miglioramento delle condizioni dell'aria. Per il terzo anno consecutivo le emissioni inquinanti in Puglia sono al di sotto dei limiti di legge. Certamente questo impegno che abbiamo oggi assunto potrà aiutarci a mantenere questo standard e vorrei dire forse anche a migliorarlo.